Oltre 500 metri quadrati di deposito in fiamme questa mattina in centro città Benevento. Una colonna di fumo denso si è innalzata intorno alle 8.30 dalla rione Ferrovia. Paura per i residenti di un palazzo costretti a lasciare le abitazioni per oltre due ore al pari dei dipendenti di un'impresa in Mia Paga, dove è divampato l'incendio. A bruciare il tetto e il sottotetto di un mecchio magazzino adiacente ai monopoli di stato e deposito di tabacchi. Si tratta di una struttura in muratura e lamiere all'interno della quale erano presenti alcuni materiali nell'area utilizzata fino a qualche tempo fa da un'azienda, che si è poi trasferita. All'inizio si era pensato proprio ad uno dei depositi dei monopoli, che invece non sono stati per fortuna interessati dalle fiamme. In azione sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, che hanno dovuto lavorare per oltre due ore, prima di spegnere il vasto rogo che ha pesantemente danneggiato la struttura. I pompieri hanno dovuto tagliare parti della copertura per riuscire a raggiungere il fuoco e per far uscire il fumo denso. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri che, spento il rogo con i vigili del fuoco, hanno effettuato un sopralluogo. E i rilievi che dovranno ora accertare le cause che hanno scatenato le fiamme. Grazie. 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 Grazie.